Amici del Padel Made in Asi Taranto ben ritrovati. Il campo centrale del centro sportivo New Faro Sport di San Vito a Taranto ospita la sfida che vede di fronte Civico 5 della coppia formata da Claudio Gentile e Domenico Panariti e il team Bellevue Padel di Rossella Stefanelli e Danilo di Cagno. La gara è valida per la categoria Padel Master 2022-2023 e senza perdere neanche un attimo passiamo alle azioni più belle del match. Alla battuta Claudio Gentile. Rossella Stefanelli chiude questo lungo scambio con una bella volée di dritto. Servizio vincente di Domenico Panariti. Rossella Stefanelli a servizio. Scambio di altissimo livello. Peccato per l'errore della Stefanelli dal fondo. Il rovescio da fondo campo vincente di Rossella Stefanelli. Lo smash poderoso di Claudio Gentile non ammette repliche. La volée di rovescio di Panariti mette in difficoltà Rossella Stefanelli. Nulla può fare Panariti contro il passante millimetrico di Danilo di Cagno. Applausi per lui. Un'altra schiacciata al fulmico tone di Claudio Gentile. segna il punto di Canio con una bellissima volée di rovescio. Il tocco a rete di Rossella Stefanelli mette in crisi Domenico Panariti. Di gran classe il dritto ad incrociare di Claudio Gentile. Servizio vincente della Stefanelli. Colpo incredibile di Danilo di Cagno. Ci prova Gentile ma niente da fare. Scambio di colpi galattico chiuso da Di Canio. Smash preciso e letale di Rossella Stefanelli. Panariti compie un'autentica magia sulla volée di Di Canio mettendo in difficoltà Rossella Stefanelli che sbaglia. Panariti compie un'autentica magia. 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 degli avversari. Va a buon fine la schiacciata di Panariti. La chiusura elegante e perentoria di Rossella Stefanelli. Bel punto messo a segno dalla Stefanelli. Colpo da maestro di Claudio Gentile. Volè di dritto infida di Danilo Di Cagno? Prova la risposta a parete Panariti ma nulla da fare. Il match point per Civico 5 arriva dall'errore in schiacciata di Rossella Stefanelli e così la coppia composta da Domenico Panariti e Claudio Gentile si aggiudica l'incontro per 2-7 a 0 col punteggio di 6-3-6-4. Ebbene dal centro sportivo New Faro Sport è tutto, l'appuntamento è alla prossima.